Bene, siamo qui con Mario Rusconi, presidente NP Roma. Con Rusconi parliamo di chat, un argomento che le chat utilizzate ultimamente anche in malo modo all'interno delle scuole, con docenti anche inseriti e tutto questo ha creato anche situazioni polemiche e anche critiche pesanti nei confronti della categoria. Voi vi siete fatti promotori come NP Roma e Lazio di un'iniziativa, ci spiega qual è a proposito delle chat a scuola Rusconi? Il problema delle chat noi vogliamo inquadrarlo nell'ambito ben più ampio del codice deontologico dei docenti. Già nel 2002, quindi ben vent'anni fa, il Ministero fece una commissione di studio che ha pubblicato degli ottimi documenti che sono rimasti lettera morta. Nel 2012 sono stati riesumati dalla NP ma anche là non se n'è fatto nulla. Allora da un po' di mesi noi pensavamo di tirar fuori di nuovo questo argomento che è molto importante per dare visibilità alla scuola di tipo pregevole naturalmente. In questa situazione si è unito il problema relativo alle chat, TikTok del Righi, le chat del Montale e così via e quindi abbiamo ritenuto opportuno che nel codice deontologico ci fosse una parte dedicata anche soprattutto all'uso dei social media. Fermo restando che poi siamo rimasti molto meravigliati dal fatto che alcune istituzioni hanno visto la nostra presa di posizione come una forma di proibizionismo. Noi non abbiamo mai detto che le scuole debbano proibire le chat. Abbiamo detto che ogni scuola nella propria autonomia dovrebbe sistematizzare in un regolamento l'uso delle chat, la chat dei docenti con gli studenti, con i genitori e così via. Naturalmente evitando che ci siano intromissioni di tipo professionale che non competono né allo studente né al genitore e prendendo poi quindi dei provvedimenti se per caso qualcuno ad opera la chat con la scuola in maniera abnorme. Rusconi, lei ha fatto l'esempio anche di genitori che si intromettono nelle chat chiedendo spiegazioni sulle valutazioni dei figli, chiedendo spiegazioni sul programma svolto e quant'altro. Ecco, questo non deve accadere? Beh no, anche perché nelle chat ormai da diverso tempo noi abbiamo anche segnalazioni di colleghi che ci dicono mi è arrivata questa chat di un papà o di una mamma perché ha spostato mio figlio di banco, era vicino a Francesco adesso è vicino a Giuseppe, ammesso che si chiamino così. Oppure, come mai è stata ancora la perifrastica attiva quando nella scuola del figlio del mio amico stanno la perifrastica passiva? Ecco, queste sono intromissioni inammissibili e naturalmente le scuole devono poter regolamentare proprio l'uso dei social media per evitare che queste cose avvengano. Il regolamento di cui lei parla deve essere, deve passare negli organi collegiali, in particolare il collegio dei docenti e il consiglio di istituto? Senza dubbio ci deve essere la voce diretta professionale del collegio dei docenti, del consiglio di istituto e quindi degli studenti perché nelle scuole medie superiori il consiglio di istituto vede anche la presenza degli studenti. Laddove si trattasse di scuola elementare o di scuola media chiaramente si può chiedere l'opinione degli studenti ma chiaramente ha un valore meno forte rispetto a ragazzi di 16, 17, 18 anni. Quindi, Rusconi, però lei non esclude la comunicazione in real time via chat, whatsapp tra uno studente e un docente? No, non la escludiamo, però quando io, dopo queste critiche un po' avventate che ci sono state fatte per cui un docente che conosco mi ha detto no, io la SAT la adopero come mi pare con i miei studenti nessuno mi può dire come la devo usare. Io penso che questo sia un ragionamento sbagliato. Se si dice che la scuola è una comunità, in quanto tale ogni comunità ha delle regole e le regole vanno rispettate. Per cui noi diciamo la regolamentazione non può venire dall'alto. Io ricordo un po' quello che avvenne nel 1995 con la carta dei servizi scolastici. C'era un DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dava l'impronta generale della carta dei servizi. Poi ogni singola scuola avrebbe dovuto inverarla nei propri regolamenti. La stessa cosa noi chiediamo che venga fatta col codice deontologico. Bene, grazie Mario Rusconi, NP Roma. Grazie a tutti.